Musica Bentornati amici del gameplay su Game Oversize Sono Tra90 e siamo su Batman Arkham Knight ragazzi Il Cavaliero Oscuro è tornato Allora dobbiamo andare nelle centrali di qualcosa che era Ha il deposito dove abbiamo scoperto dove fabbrica il veleno lo spaventa passeri Dobbiamo incontrare Gordon Allora ancora aspetto commenti sull'audio se così va bene Se è troppo basso, troppo alto, l'audio del gioco è troppo alto Eccetera eccetera però Poi ho letto i vostri commenti anche su soluzioni secondarie E non saprei Mi avete dato tanti consigli però Potrei ogni tanto mettere missioni secondarie Almeno quelle più belle e quelle più bruttarelle Me le faccio solo Almeno andiamo un po' più veloci sulla storia Non lo so ragazzi Perché da quello che ho capito servono Perché ti danno i punti di esperienza Quindi Gordon sta a lista Vediamo un po' che ci dice Gordon Notizie dall'interno? Niente Pensiamo che una minima parte del personale sia ancora lì Ma nessuno risponde La struttura è isolata Se sono ancora vivi Li troverò Potranno dirci cosa trama lo spaventapasseri Ma che diavolo Qui ci hanno presi gli elicotteri Cioè ma ci hanno dato tutto Ma non ce l'hanno presi Se quello non capisco io Lo spaventapasseri E invece tutte queste cose Ma ci deve avere un patrimonio pure lui Batman non fa al riparo Che vuole fa? È l'ora di morire vecchio Che la morte Non deve più temere alcunché Tenetelo alla larga Dalla Ace Chemicals Avrai la tua vendetta Che cavolo è? Finisse tutto stagotto Tutto qui ragazzi Scordi, personaggi, le cose C'ho stamente bagata E' chi qua Eccoli i Transformers Cazzo Fortuna che c'ha la tutina sexy Chi è? Diciamo un po' chi è Sta qui E andrò a scoprirlo Ah quindi neanche lui lo sa Bene Eeeh Sì Quindi Dobbiamo Minchia però Andiamo là sopra E vediamo la situazione Quindi prevedo Che cazzo Che è mo Ma che cazzo c'ha un esercito? E' una nazione intera Preso questo Ma che c'ha? No ma state vedendo ragazzi Oracol Chiunque sia Ha radonato un esercito Poco gane Mi serve un nome Abbiamo delle informazioni Da una squadra di servizi segreti In Venezuela Hanno scoperto una struttura Di addestramento con soldati Che indossano quello stesso simbolo Venezuela Abbiamo solo delle ipotesi Su chi li comandasse Le varie fonti Concordano solo sul suo nome Il Cavaliere di Arkham Eccolo chi è Il Cavaliere di Arkham Knight Decreta le comunicazioni Devo sapere cosa trovano C'è dell'altro Degli operai Della Ace Chemicals Sono ancora sul posto Ci aiuteranno A rintracciare Lo spaventapasseri E la sua bomba Devo trovarli Ogni operai Avrà un suo chip Identificativo Accedendo all'archivio Del personale Potrò rintracciarli C'è un terminale Della sorveglianza In una cabina vicino a te Prova lì Beh Detective Quindi Intanto sono nemici Armati di fucili Ci sono cinque soldati Ognuno armato E pericoloso Prima di poter accedere Al terminale Dovrò eliminarli tutti Eh ma non Ma ragazzi Allora Occhiamo alla Batmobile Proprio lì Stanno sotto sotto Non mi dovrebbero Da fastidio Abbiamo dei punti Alti dove Dove poter gestire La situazione meglio Ok Allora Dobbiamo Familiarizzare Bene con i comandi Eh Sono cinque Adetti Uno Due Mi ha fatto male qualcosa Che ho mangiato l'altra sera Stupide razioni Non sto ancora bene Ah ci sono delle grate Dalle grate Dalle grate potrei fare il K O Quello sta fermo là Non posso Lappicarmi lì Non c'è neanche un appiglio Dove prenderlo in testa Ah si che può invece Eh ma la sei sexy Non mi ha entusiasma Uccidere i cipi Eh non ho venuto a metterse qua Ti ringrazierebbero Se sapessero cosa ha in mente Lo spaventavasse Va te ne va Se questo te ne va Ammazziamo quella Qua non sappiamo neanche se questo Si rampica No non ci stanno le schelette Mi pare Va bene Siamo stati addestrati per questo Allora Bravo Guardiamo bene Che sta avvenendo Nessuno Ciao Ti spieghi però Ah ma ci si può rappicare qua sopra E allora Abbiamo un bel appicchio Adesso devo entrare in quelle grate Ragazzi Mi sembra Meno a me Oh se potessi fare gli assassini Ah dall'alto Peccato che non ce l'ho Allora Andiamo con l'ammazzo Questo ragazzi Ok è andato Quindi i due sono andati Ora rimane uno lì giù Si muove ragazzi Si si muove Quindi meglio non forzare Si muove ma il prossimo a morire E' sparito Ah si sta muovendo di là Però questo lo posso fregare Ok Questo lo frego qui E quindi facciamo il KO multiplo Siate pronti E lui sarà pronto ad affrontare un esercito I blindati lo schiacciaranno Prima che possa sparare un culo Però sta facendo il giro Non sa Non avete sentito il cavaliere Quando c'è di mezzo Batman Non funziona Che cazzo sta E' andato raga Vai Ok Ok Meglio che aspettare Tutto la pioggia Ne mancano due Ma io non posso entrare così No Perfetto Però questo Ragazzi Il KO con lo doppio Fa rumore Quindi non è Il massimo Dello sted Possiamo accedere Al terminale adesso Vediamo se Oracle Aveva ragione Connessione dati Attiva Decodifica dati Qualcuno Puede aggiornare I protocolli Di sicurezza 5 dimendetti Quindi Oracle Avevano un upgrade Se vado in un punto elevato Posso usare lo scanner Per trovare i lavoratori Ok Ti ho segnato sulla mappa La struttura più alta della zona Non cadere Andiamo andiamo Ecco lo sapevo Ben fatto Ben fatto Bene Il mio obiettivo L'obiettivo era quello Prendere velocità E prendere qua sopra Perfetto Posso attivare il BAT scanner E cercare i lavoratori BAT scanner Che nome Sono riuscita a intercettare Una comunicazione radio Oh qualcuno sta là Oh qualcuno sta là Oh qualcuno sta là E questo cavaliere di Arkham Te la trasmetto Ce l'avevo nel mirino Potevo chiudere la partita Non è ancora annientato Non qua Ma ci manca poco No ho aspettato abbastanza Batman morirà No Corrò qui ragazzi Perché lo odi così tanto Non sa che gli è Che vuole vendetta Hai idea di chi sia Il cavaliere di Arkham Si manca ultimo Mi sono fatto molti nemici E infatti Non siamo ammazzati voi De 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 botte Allora ne manca uno ragazzi Introvabile Ecco Stata questa parte Perfetto Ma se ruppiamo Con la batmobile Distruggiamo tutti quanta Cannonate Rilevo 5 chip personali All'interno della struttura Speriamo che siano ancora vivi Eh speriamo Allora Quella mi sembra il più Più raggiungibile però Sempre da vedere le guardie Che ci stanno E che qui sotto È pieno di guardie Il fatto è che mi spaventano I cari armati Almeno Non vorrei cadere Dove sono i cari armati No andiamo là Proviamo lì ragazzi Ah da qua Non faccio il tempo A vederli Ma sicuramente Ci stanno Spero che faccio Una sciocchezza Andar lì adesso Però Comunque Cavaliere di Arkham Interessante Non mi viene in mente Nessuno Sicuramente è collegato Al videogioco Possibile Qualcuno che abbiamo ammazzato Ah ci stanno Ci stanno Ok Quanti sono Tre Io li faccio fuori subito E tre di là Quindi Ma hai visto Portacci tu Ma hai visto Ma guarda questi Stanno a guardare Proprio per l'aria Dove sono Ma che c'hanno Questi mi ammazzano Ragazzi Se perdo Va Mostra Basta Ok ok Ce l'ho fatta No Che ti rialzi pure Bastardo Sti scemi Questa qui Ha esaurito il suo scopo Perché continuiamo a lasciarlo vivo Per me è soltanto Uno spreco di risorse Ma se poi non voglio far fuori Quelli Posso entrare senza farlo fuori No Ma c'erano pure le grade Ah no Non erano grade Stanno girati ragazzi Perfetto E' neanche l'obbligatorio Di ammazzarmi L'unico modo di trarre in salvo Il lavoratore E' abbattere quella parete Devo portare la Batmobile Nel complesso Oh la Ma Devo aprire l'ingresso Batmobile Della fabbrica Per far entrare la Batmobile Come faccio? Prima devo aprire l'ingresso Della fabbrica Poi farò entrare l'auto Un ingresso Della fabbrica Lì giù Quanti cazzi Oh Oh Multigalpa del Terone Bella ragazzi Vieni qua Vieni qua Oh cazzo Non me ne so accorto Ciao Bene Si apre da qui quindi Oracle Hanno ucciso un lavoratore Aia Chiavolo Dobbiamo fermarli Senti Ho violato le comunicazioni Della milizia D'ora in poi Potrai ascoltare Ogni canale di trasmissione Grazie Oracle So come entrare Con la Batmobile Nel complesso Pagheranno per questo Tutti Bravo Vediamo il cancello Via libera Devo portare dentro l'auto Ok Ce l'ho già selezionata la Batmobile Chico Porta principale aperta State pronti Sta arrivando un carro armato Da un milione di dollari Abbiamo mandato un diamond A chi è il cortile principale Lo distruggeremo Sì sì Che bello ragazzi Ma ci vorranno diversi colpi diretti Per abbatterle Una palla al cinghiero Prendi la rincorsa E vai Che figata Oh Via da qua Cazzo 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 Sto forti Madonna Ok Ora è andato Non c'è che riusciamo a prendere Questo qua doppio Ragazzi Ti buttiamo via tutti Oh Via via Ciao cuore Ok Bastardi Comunque è una figata Ma Sfondati Sfondati Bene Ma cosa è che mi sento invincibile Allora ascolta questo Ma È una figata Sfondati a Gotham L'operazione Salvatore è iniziata Sì Salvatore che Sfonde tutto ragazzi Ma che figata che è Sfondati a isolatela Entro un'ora voglio le nostre mani strette alla gola di Gotham Sì Ciao core Ma ti andiamo Il muro sta trovando Ciao Morti Ok Usciamo Andiamo a vedere se abbiamo salvato Batman Batman No Che cavolo è Ma che cavolo è Ma che cavolo è Hai detto qualcosa Non coinvolgerlo Non coinvolgerlo Sempre a proteggere i deboli e gli indifini Ma che Sono troppe cose Sei scontato È per questo che vinceremo Possiamo prevedere ogni tua mossa Sappiamo come vengono Sai a cosa sto pensando ora Scommetto Che ti chiedi Chi ti apano è No mi vuole usare la Batmobile No Sto decidendo quale di voi metterò al tappeto per primo Per essere del tutto chiari Sappi che voglio Ucciderti Ma prima Vogliamo Vederti soffrire Abbiamo il bersaglio Basta una parola e metterò fine a tutto questo Gotham sarà nostra Ma posso mormi? Tu non capisci Con uno come lui Non ci sono Non avvicinarti oltre Tu ti mentirai Come faccio? Che figata ragazzi Non sapevo che faceva così però Evita evita i colpi C'hanno i fucili C'hanno i fucili C'hanno i fucili Cazzo Immobile Se vuoi aiutare Cavolo Porco cane ragazzi L'ho vista brutta stavolta Oddio Subito sfondato il vetro Ma l'ho vista brutta Veramente E ho perso la vita Mamma mia Ora mi lasci andare Giusto? Sì da salvo Un pazzo Zitto Ora sei al sicuro Non ne hai le più palli da idea Pagman Crede Lui Calmati e raccontami ciò che sai Lo stabilimento è in funzione da ore Sono entrati con camion Armi Soldati E in più sostanze pericolose Sapevano che cosa facevano Sta producendo la sua tossina su vasta scala Sono guai Guai seri Parliamo di una nube di gas In grado di coprire l'intera costa orientale Oddio Dove è lo spaventa Passeri? Io Io non ne ho idea So solo che sta proseguendo col suo piano E che ha uno stramaledetto esercito Siamo spacciati Batman Lo fermerò io Ma prima ti tirerò fuori Aspettami alla Batmobile Allora Aspettiamo che parli E ciò di dire una cosa importante Non ancora È peggio del previsto Quanto peggio può essere Sta costruendo una bomba Che ricoprirà di psicotossina L'intera costa orientale Porta gli uomini fuori da qui Vai alla centrale E asserragliatevi Tieni tutti dentro Toglierò i miei uomini dalle strade Ma resterò qui Se trovi qualcuno Portalo da me Jim è troppo pericoloso Lo fermerai Ne sono certo Quindi ragazzi Allora Ha detto Ha una bomba in grado Di coprire l'intera Costo orientale Adesso io mi chiedo Però ragazzi Stiamo nei Stati Uniti No? Ho sbagliato Devo scortare quello Eh I Stati Uniti Stiamo Stiamo nei Stati Uniti E Lo Stato non interviene Su Gotham Forse Nei fumetti Mi sono perso qualcosa Perché io Ho Ho i miei dubbi Ragazzi Stati Uniti Non mi sembra Uno Stato Che sta a guardare Preta al panico Sembra veramente 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 strano Ragazzi Lo passo qua Dove andrà ragazzi Sto un picciolo Ok Dove vuoi scendere Quindi Cioè Manda l'esercito Cioè Perché I Marines Sembra veramente strano Ottimo lavoro Sapevo che non ci avresti deluso Eh ma va Non è ancora finita Gem Torno a prendere gli altri Ok Andiamo Sì Ciao E' Sì Sì Grazie.